Buongiorno a tutti dalla Solamanica.com, un sito tutta la magia, io sono Max e oggi andiamo a vedere chi ha vinto il mio contest Magic for Me. Prima di arrivare a declamare il vincitore che si beccherà un bellissimo mazzo di carte, le Cosmos di Oret V autografate blu o rosse. Andiamo a ringraziare tutti i partecipanti, per cui grazie a tutti i bellissimi i video che mi avete mandati, vi sono scritto qua i vostri nomi. Grazie innanzitutto a Gabriele Marchi, a Andrea Lucchesi, al Messere Davide Fortunato, Jaco Magic, Magician Magic, Francesco Ceriani, Grep05, Ciao Matteo, Gabriele Smecca e Valerio Massimo Folignoli. Un ringraziamento particolare va anche a chi assieme a me ha realizzato i video che hanno accompagnato questo contest sotto forma di campagna pubblicitaria, per cui oltre al mio video c'era quello della grandissima Laura Cips, di Ale Magic, di Sirio Alfieri e di Andrea Melano. Finiti i ringraziamenti, ora andiamo a vedere chi e perché si è portato a casa il premio di questo contest. Ciao a tutti, io sono Valerio, ho 12 anni e faccio magia da quando ne ho 9. In questo lasso di tempo ho conosciuto molte persone, tutte con opinioni diverse su cos'è la magia. Per alcuni la magia è saper lasciare allo spettatore soltanto la sensazione dell'impossibile. C'è chi invece la magia la vede come quel mondo dove tutto è possibile. Per altri invece la magia è un sogno da condividere con tutti. Per alcuni invece la magia è saper capire le emozioni degli spettatori. C'è chi invece la magia ha l'obiettivo di far distaccare lo spettatore per 5 minuti dalla realtà. Beh, ora vi dico la mia. La verità è che per me la magia è tutto insieme di queste definizioni e della passione dei magni. Ciao! Ebbene sì ragazzi, ha vinto il piccolo Valerio. Non so se avete notato nella clip cosa ha realizzato. Dove sta la genialità di questo ragazzo. Ha portato un gioco con 5 carte che componevano la parola magia e ha citato nell'ordine tutti e 5 noi. Sia me che Laura che Sirio che Andrea che Alessandro e poi alla fine ha detto anche la sua. Per cui veramente geniale la realizzazione di questo video. Mi è piaciuto tantissimo. Molto molto originale. Bravissimo Valerio, poi io e te ci sentiamo per la consegna del mazzo. Grazie ancora a tutti per aver partecipato e magari ci vediamo per un bel contest per i 10.000 iscritti. Ciao a tutti, alla prossima!